Consigliere, dopo le primarie saltate e la frattura della coalizione di centro-sinistra, voi sostente la forgia ma avete in questo momento un atteggiamento critico? Prendiamo atto del fatto che Giuseppe Conte nell'ultimo incontro, quello di preparazione al comizio delle primarie, ha in un certo senso cambiato le carte in tavola. A noi non va nemmeno bene che in un certo senso il territorio e il progetto all'interno del quale ci siamo riconosciuti e all'interno del quale crediamo che vede Michele Laforgia come candidato civico unitario di alcune forze politiche anche distanti dai temi nazionali, però possa avvenire meno perché qualcuno viene sui territori e vuole strumentalizzare i propri rapporti di potere magari con altre forze politiche, vedi il PD. In sostanza rivendicate la vostra dignità all'interno di questa coalizione a supporto di Laforgia e non volete essere subalterni al Movimento 5 Stelle? Tutte le forze politiche all'interno della Convenzione per Bari 2024, soprattutto i partiti, devono essere trattati con la stessa dignità. Su quella dignità noi sicuramente non faremo un passo indietro e questo vale come ultimatum. Grazie a tutti.